io ancora non avevo il nome quindi ho confermato ciccio bello quindi poi leon l'abbiamo chiamato ok va bene ce lo ricordiamo è già successo in passato che dirà che era un cane di proprietà per questo c'è il nome vecchio perché sono sempre quelli che sanno tutto ma ormai siamo abituati non ci fanno più effetto ma è di una bellezza al di là della rogna è di una bellezza c'è uno sguardo fiero vero è bellissimo io mi sono innamorata di lui poi ricordate però sì ma quello è dovuto a più per l'infezione della pelle ok queste poi ti chiamo e poi ti dico queste quattro ok che ti hanno il territorio